Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video! A me fa ridere che quando arriva l'estate i miei video sono sempre più al degrado, cioè ho gli occhi rossi perché fa caldo, la mia casa è un devasto perché sto facendo la valigio per andare al mare, io sono mezza nuda perché si schiatta e niente, quindi si vede proprio il tracollo, già non sono ordinatissima quando faccio i video. Comunque questa è la solita location un pochettino più incasinata e oggi facciamo il video sulle protezioni solari. Credo di poter rientrare in qualche programma tipo io e le mie ossessioni perché queste qua sono tutte le mie protezioni solari, ho proprio al di là del discorso lavorativo sviluppato una sorta di feticio verso le protezioni solari, lo ammetto, per cui ho la necessità di provarle, mi piace usarle, mi viene proprio la goduria quando vedo che sono buone, quando si sciolgono bene sul viso e tutto quanto, per cui ho deciso oggi di condividere questa mia passione con voi e farvi vedere tutte quelle che ho, le sbocciamo insieme, vi dico cosa ne penso e così via. Spero che il video vi possa aiutare a trovare la vostra o a capire magari se state sbagliando qualcosa nella vostra e volete cambiarla. Cerco di strutturare il video in maniera intelligente, siccome non voglio che ci sia un caos assoluto che vi costringe eventualmente a guardarvi tutto il video, la ricerca di informazioni utili, cerco di concentrare tutte quelle belle all'inizio, quindi le mie preferite in assoluto, dopodiché andrò a sciamare verso quelle chimiche che mi danno un pochettino di problemi, che sono buone ma magari non utilizzo poi così spesso e infine quelle proprio che mi fanno schifo, quindi per chi anche lo guardasse per curiosità, per sapere cosa mi fa vomitare, andate alla fine del video. Altra cosa, giù nell'info box scrivo i nomi e i siti dove reperire le protezioni solari in ordine in cui li vedrete nel video, in maniera che se poi volete andare a cercare qualcosa in particolare vi sapete regolare. Bene, fatto l'indice, direi che possiamo incominciare col video. Intanto le rovescio qua davanti a me, ecco un bel bordello, perfetto. Mi sono munita di fazzolettini perché così almeno posso asciugarmi le manine mentre ve li faccio vedere. Allora, oddio c'è l'imbarazzo della scelta. Partiamo con quella che secondo me è la migliore, cioè quella che consiglierei sempre a prescindere. Ecco questa proprio sempre a prescindere, ma c'è un discorso di sempre a prescindere che per me significa reperibilità, quindi posso consigliarla a chiunque perché chiunque saprebbe dove andarla a comprare e anche a ricomprare eventualmente, perché adatta a tutti i tipi di pelle, perché è favolosa, perché si emulsiona bene con gli altri prodotti, non fa peeling, va bene sotto il make-up. Insomma, elogiamo, elogiamo, elogiamo questa qua. Aspettate perché c'è dell'unto, io so anche di chi è la colpa. Ma ne parleremo di lei. Allora, la più bella quindi è questa qua, Vichy Capital Soleil Ouviaje Daily. Ouviaje. Non so mai se dire Ouviaje o Ouviaje. Comunque, una delle mie prime protezioni solari ad uso quotidiano che scelgo quando mi devo truccare. Ve la swatch. Cercherò di metterne poca perché altrimenti sulle mani sapete che poi se ce n'è troppa rispetto a quella che metterete sul viso non si vede bene. Allora, consistenza, come vedete, è molto molto liquida e quando andate a spalmarla, lei in tre secondi ha fatto. Il mio consiglio è sempre quello di stratificare il prodotto, quindi per evitare che ci sia comunque pastone bianco. Io adesso utilizzerò queste creme solari bene, quindi vi faccio anche vedere come si comporta l'applicazione che consiglio. Andate magari a metterne meno, quindi le classiche tre dita, mettetele una per volta. Quindi fate un dito di protezione solare, andate a tappare tutte le parti del viso, quindi le due guance e la fronte e spalmate. Una volta che si è spalmato il prodotto, secondo dito rifate la stessa cosa, terzo dito rifate la stessa cosa. Perché se voi mettete tutta la crema solare insieme, questa ci metterà una vita ad assorbirsi e rischiate di avere troppo prodotto sul viso o comunque avere la sensazione che questo prodotto non se ne andrà mai dalla vostra faccia. Seconda protezione solare della vita, questa qua, la Essence di Misha. Questa qui è molto molto buona, ma è un po' più difficile da reperire. Mi sembra che ci sia su Notino, mi sembra che ci sia su YesStyle. C'è anche su Stylevana, se non mi sbaglio. Però qualche volta è sold out, adesso se non erro su YesStyle hanno cambiato il packaging. E questa qui corrisponde al latte, quello con il tappo blu, mi sembra. Comunque ve la faccio vedere. Queste protezioni solari coreane sono bestiali. Un po' più solida rispetto a Vichy, però anche lei, cioè in due secondi non c'è più niente. E vi lascia questo finish che non è unto, attenzione. Io adesso ho la mano bagnata, come se fosse una specie di emulsione questo prodotto. Dopodiché quando va, lo lasciate assorbire due minuti. Il consiglio è sempre quello di non procedere immediatamente col make-up. Sia per non spostarla, sia appunto per darle il tempo di assorbirsi e di assestarsi un attimo sul viso. Una volta che il prodotto si è assorbito e si è asciugato, voi sulla mano non avete più niente. Identica, veramente identica, ma consigliata forse per pelli miste e grasse, questa qua. Anche questa ha cambiato packaging, ce l'ho da una vita. E' quella di VT Cosmetics, la Cica Peralion. Io vi lascio già quella nuova giù nell'info box. Questa qua contiene centella asiatica ed è appunto utilizzata per regolare la produzione di sebo e soprattutto ha un finish molto simile a queste, che comunque tende a asciugarsi e non restare assolutamente unta in nessun modo. Ma non lo so, ha proprio una consistenza che secondo me si adatta meglio alle pelli miste e grasse. Sebbene comunque tutti la possano utilizzare. Stessa identica consistenza dell'altra, adesso ne ho messa un po' di più, però come vedete, tre secondi e l'effetto è lo stesso. Ha una profumazione un pochettino più intensa, che sa di... non so se tutti avete presente il balsamo di tigre. Comunque quegli olietti per massaggi un po' orientali è abbastanza piacevole come profumazione e poi se ne va completamente, quindi non una cosa invasiva. Altro prodotto bello, Vichy Capital Soleil, protezione 50, questa qua è mattificante, 3 in 1, è quella che ho su adesso. Ci sono andata in palestra stamattina, sono le 4 in questo momento. Io ho messo la crema solare stamattina alle 10 e un quarto. Questa qua è la situazione, quindi come vedete non sono per niente lucida, nonostante abbia sudato come una porchetta durante la mia mattinata di allenamento. Diciamo che non ho notato grosse differenze rispetto a Oviage, nel senso che è mattificante, cioè che non unge, ma ce ne sono anche altre che non ungono. Quindi insomma forse non è niente di chissà che differenza la formulazione di questa. Meno liquida rispetto a Oviage, poco 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 più corposa, come vedete si fa un po' più di fatica prima che vada via completamente, ma alla fine l'effetto è sempre quello. Gelatino, questa è bellissima, questa qua l'ho comprata al Cosmoprof, l'ho proprio comprata perché l'ho vista e non potevo farne a meno. Infatti ve la faccio vedere per curiosità, ma non penso che sia di facile reperibilità, non l'ho mai vista da nessuna parte. I patch di questo brand, patch Aolic, si trovano anche su Notino e su qualche altro sito che rivende, qualche rivenditore italiano di prodotti coreani. Però di base la crema solare non l'ho ancora vista, ma se la vedete qua sotto è perché l'ho trovata. Per usare questo prodotto dovete svitare il bastoncino del gelato, stracarino. Liquidina sempre, qua ne ho messo veramente tanta, quindi questa è una super prova. Spalma, 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 spalma e sparisce subito. Vedete un po' più di bagnato appunto perché c'era più crema, ma siamo sempre lì. Bello l'effetto traslucido, impressionante come mi abbia appiattito i peli proprio come se fosse acqua. Quindi si parla sempre di protezioni solari ultraleggere. Profumazione inesistente completamente, sono tutte state completamente senza profumo, tra Neo Viage che è alla camomilla e appunto quella di VT Cosmetics che vi ho già spiegato. Allora, velocizziamo un po' la situazione. Questa qua di Can Make c'è sia trasparente che bianca, io ho preso la versione bianca, mi piace tantissimo sotto il make-up. È una tone up, quindi sono quelle che vanno benissimo come primer con SPF 50, logicamente. Un pochettino più corposa, ma soprattutto rimane un po' più bianca rispetto alle altre. Questa qua, adesso qua dalla mano si nota poco perché ho la mano molto bianca, anche più bianca del viso, non so perché. Ma vi lascia una specie di residuo uniformante bianco, un po' come se fosse un correttore bianco. Quindi il mio consiglio è, se siete normali barra scuretti, prendete la versione trasparente. Se siete bianchi barra molto bianchi tipo me, questa qua è perfetta perché vi dà uniformità dell'incarnato immediatamente e riuscite ad avere poi la base stupenda per il make-up. Sulla falsa riga di questa ne ho altre due. Queste qua sono per la color correction, ma si possono utilizzare anche tranquillamente, insomma, come creme solari normali, anche se non vi truccate. E sono questa qui, l'azulene di Neogen e quella di Clydes. Questa forse era stata la classica fonte di polemica perché forse si diceva che non fosse effettivamente al 50 l'SPF contenuto, però ce l'ho ancora, la utilizzo in casa, nel dubbio. Allora, questa qui è azzurra e l'altra è lilla e aiutano molto a uniformare l'incarnato e trattare i rossori. Quindi se avete delle discromie molto evidenti, con un prodotto colorato del genere, riuscite a darvi una bella base uniforme. Si percepisce poco. Questa qui è quella di Clydes, azzurra, e questa qui è la lilla di Neogen. Quella di Neogen c'è anche azzurra, volendo. Vi faccio vedere la spalmabilità. Considerate che queste qua, che danno un po' di tono, sono leggermente più corpose, anche da spalmare, rispetto alle altre. Quando un prodotto è trasparente, è spesso acquoso. Ovviamente spariscono, ma dovete considerare che non sono proprio così, così, così light. Stiamo parlando sempre di differenze molto, molto sottili, perché andando poi verso la fine vi renderete conto che ci sono delle protezioni solari che non vanno bene, ma neanche per stuccare i muri. Quindi, delle differenze minime, ma vi faccio presente che queste qua sono un po' più corpose. Passiamo a un altro bersolare, sempre coreano, questa qua di Tudouse. Questa è la Double Cut. Parliamo sempre di prodotti che vanno a fungere da primer. Si dice a fungere? Eccola qui, questa l'ho presa su Ye Style. Questa è impalpabile, cioè, fatto. Tre secondi ed è come non averla. Io direi che tutti quelli che vedono questo video, e mi piacerebbe sapere nei commenti chi è arrivato a questo punto del video, mi scriva qua sotto, sono fregato. Perché se siete arrivati a questo punto del video, non avete più scuse per non usare la crema solare tutti i giorni, anche in inverno, anche se piove, anche se siete rintanati in una grotta, in cantina, sepolti o rapiti. Perciò, voglio proprio sapere quanti di voi sono fregati. Perché davvero, si pensa sempre che mettere la protezione solare sia una cosa odiosa, perché palle, perché è corposa, perché non si spalma, perché fa peeling. Ecco, queste non fanno nulla di ciò, anzi, sono forse più leggere e creano molti meno problemi di tanti sieri o di tante creme che utilizziamo quotidianamente. Perciò non avete scuse. Sono diventata il terrorista della crema solare. Altre creme solari super carine. DM, questa forse non tutti hanno un DM nella propria città. Io ho questa grande fortuna, anche se la cosa implica che io vado a spendere fior fior di quattrini ogni totto per andare a vedere le novità. Protezioni solari della linea Sundance. La 30, c'è una 50 della stessa identica formulazione per bambini e c'è questa che adesso vi spiego come funziona. Anche queste sono straleggere. Io direi che con queste qualcuno si è lamentato di riscontrare un po' di unto nell'arco della giornata. Sicuramente non è come questa mattificante che lascia traslucido. Se la usate tutto il giorno, forse a fine giornata un po' di unto potrebbe spuntare se avete pelle particolarmente, diciamo, grassa. Non mi veniva il termine. Vedete, questa qua, già rispetto alle altre, inizia a spostarsi un pochettino durante la spalmazione. Sto tirando fuori delle perle, veramente. Ecco fatto. Perché però ve la consiglio lo stesso? Perché in ogni caso è una super protezione solare da viso e costa tipo 3,99 euro. Perciò se non volete spendere tanti soldi, o semplicemente perché non ve ne frega niente, o magari ne usate talmente tanta che ritenete il caso di doverne comprare molto 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 spesso, Allora a questo punto è un prodotto del genere, potrebbe fare al caso vostro. Tra l'altro sono super portatili e vi dico un'altra cosa. Queste qua le ho pagate 1,99 euro questa e 2,99 euro quest'altra. Quindi stiamo parlando veramente di prezzi, mi permetto di dire, ridicoli. E che quindi magari ci fanno chiudere un occhio se non sono paragonabili al 100% alla VCU Viage che costa 23 euro. Ma questa qui è identica, stessa identica formulazione. Poco più bianca forse, sì, poco poco più bianca, ma proprio di poco. È una 50, quindi magari fa quello. Il fatto che sia protezione solare fisica, c'è scritto qua senza octocrilene, che è uno degli ingredienti, sebbene non faccia male, è uno degli ingredienti più polemizzati e più nel mirino di tutti quelli che insomma sono contro le protezioni solari. Questa qua è senza. La cosa interessante di questa qui invece, 30, è che è doppia. Ha sia la protezione solare liquida all'interno, io questa qua non l'ho ancora aperta perché è tanto uguale alle altre. Questa qua, però in compenso ho già provato questa testina, che è una testina protezione solare tipo burro cacao per la riapplicazione. Quindi vi portate due in uno allo stesso prodotto. Anche questa super assente. È uno stick tipo deodorante che lascia la pelle traslucida e che potete utilizzare appunto per andare a riapplicare. E applicare il vostro prodotto durante la giornata per non spostare il make up o comunque per non toccarvi le mani, il vito con le mani. Questo vito sarà lunghissimo. Andiamo di quelle classiche, Seravè. Seravè è soltanto protezione 25, infatti di solito io la consiglio in inverno soprattutto. Questa qua è corposa. Chi conosce Seravè come crema sa che questa qua è un pochettino più dura da mettere sul viso, sebbene rimanga completamente trasparente e non unga. Adatta a pelli secche, a pelli sensibili, a pelli molto giovani. Due solari di Paula's Choice. Sono protezione solare 30 e protezione solare 50. Allora, questa qua mi piace anche se la trovo un po' troppo liquida. Infatti, adesso mettiamo la nostra goccina. Vi faccio vedere che già tende a crollare. È difficile mettere le tre dita utilizzando proprio tutto il dito e andando a spostarla sul viso. Molto bagnata. Allora, io non ho niente contro le protezioni chimiche, però ho notato che tante protezioni chimiche che possiedo tendono a sciogliersi durante la giornata. Mi finiscono negli occhi e mi danno quella fastidiosa sensazione di pesantezza. Quindi magari preferisco sempre metterne altre. Queste qua le utilizzo più che altro su colle décolleté o su delle parti del viso dove non c'è la posizione, non sulla fronte. Mettiamola così. Perché sulla fronte appunto mi si scioglie. Io poi le metto tanto anche sul contorno occhi. Le metto tanto sull'arcata sopraccigliare inferiore. E quindi il rischio che mi collino negli occhi è sempre molto alto. Il discorso di questa me lo fa anche la protezione solare di pavaglione. Che sebbene sia anche lei leggerissima, rimane comunque una protezione solare chimica. Questa qua è protezione 50. E mi fa la stessa cosa anche Heliocare. Heliocare sono due protezioni super liquide, come vedete. Io ho sia quella normale, la water gel, sia quella pigment fluid. E vi dirò qualche problemino. Qualche problemino perché oltre al discorso che mi finiscono negli occhi e mi appesantiscono, bruciano anche un po' la pelle. Non le consiglierei alle pelli sensibili. Ma in ogni caso i filtri fisici sono molto più facili da usare. Perché vanno bene per le pelli sensibili. Vanno bene per tutti i tipi di pelle in generale. Appunto non collano negli occhi. Ma soprattutto c'è da tener conto dell'attivazione del prodotto. La protezione solare chimica inizia, non so se tutti lo sanno, a funzionare 10-15 minuti dopo l'applicazione. Mentre un solare fisico, essendo uno schermo fisico, lavora immediatamente. Quindi per esempio se siete in spiaggia fate molta attenzione a riapplicare la protezione solare utilizzando un filtro fisico. Perché se voi vi applicate la protezione direttamente in spiaggia e vi esponete subito al sole, non un dramma, ma i primi 15 minuti la vostra protezione solare ancora non sta funzionando. Per di più con i raggi solari una pelle potenzialmente più sensibile potrebbe non tollerare tanto bene un solare chimico. Queste sono le due Elio Care. La normale e la pigmentata. Come vedete anche queste qua super leggere. Però appunto con questo piccolo problemino. È fastidiosa questa cosa. Perché poi sono solari che a me piacciono tanto. Mi piacciono i brand, sono buoni. Ma faccio fatica perché poi la metto e durante la giornata me ne pento. Mi dà fastidio proprio anche l'odore. Cioè è strano. È un odore pungente che mi fa quasi subito lacrimare gli occhi. Non so perché. Se qualcuno di voi le utilizza mi faccia sapere se anche a voi dà questo tipo di reazione o se sono particolarmente sensibile io. Attenzione perché la pigmentata non è un fondotinta ma è semplicemente una roba uniformante. Un po' come quelle coreane, bianche e blu che abbiamo visto prima. Veniamo alle ultime. Siamo quasi agli sgoccioli. Allora Eucerin. Questa qua è da buttare. Ce l'ho da un'eternità. Avevo poi smesso di usarla. Questa è stata la mia prima. Anzi no. La mia prima protezione solare è stata questa. Di rock. Questa è stata la mia seconda protezione solare viso. Ne sono stata perdutamente innamorata per un sacco di tempo. Tante raga che se l'hanno uso mi rimanda tipo ai miei albori della skin care. Ed è ottima. Mi sono poi solo resa conto che col passare del tempo rispetto ad altre forse c'è ancora di meglio. Si può sempre fare di meglio. Infatti poi non l'ho più utilizzata. Sono tutte belle alla fine. Vi faccio un'interruzione con questa che fa schifo. Allora la protezione solare di The Ordinary. Cioè è talmente dura che fa il picco. E calce. Avete presente? Uguale. Grigia. E quando la spalmate. Non cambia una mazza. Pensate ad avere questa roba sulla faccia. Ineterno. Ha un odore stucchevole. Che è una via di mezzo tra una brioche e il latte di mandorla tiepido. Percepite la differenza di colore. Se la mettete in faccia sembrate dei mini. Credo che sia la protezione solare viso peggiore che io abbia mai utilizzato. E tra l'altro The Ordinary mi ha detto di avere intenzione di riformularla. Ma ancora non si è visto niente. Attenzione alle spray. La spray non va spruzzata. La spray va spalmata. Se voi spruzzate la spray. Avete la protezione solare solo sulle gocce. Quindi non va bene. Perché non nebulizzerà mai abbastanza da darvi una copertura sufficiente. La spray va spalmata in abbondanza. E poi spalmata con le mani. Questa qua di Labiot. Che si chiama Veil. È davvero un velo. Cioè è acqua. È come fosse acqua spray. Però la dovete spalmare. Quindi sì. Se volete una protezione solare che sia completamente assente sul vostro viso. Però non considerate valido il discorso dello spruzzamento della protezione solare. Stick migliore al mondo. Mediterranea Cosmetics. Cavolo mi sono dimenticata perché volevo lasciare gli stick alla fine. Tutti insieme. E vabbè. Ve li metto in ordine. Il migliore al mondo per costo e reperibilità. 6,50 euro. Questo piccolo carro armato. Lo trovate su mediterraneacosmetics.it Mediterranea.it senza cosmetics. Oppure nel negozio fisico che c'è a Torino. È top. Veramente top. Per la riapplicazione. È completamente trasparente. Io lo utilizzo come una matta. Non so di volerne una camionata. Tra l'altro non fa venire i brufoli né niente. Ma io quando vado in piscina o al mare lo riapplico credo 13 volte durante la giornata. E... Manoparola è fantastico. Questo qua è il primo stick che ho avuto. Un po' meno dell'altro eh. È quello di Toso Wong. Tra l'altro è un po' che non c'è più. Su Ye Style disponibile. Ha una buonissima profumazione di arancia. Perché contiene anche vitamina C. Rispetto all'altra più corposa da spalmare. Bellissima. Nel senso che... Vi faccio vedere il nulla. Anche lei è completamente inesistente. Però a livello di consistenza dello stick è meno scivolosa. Quindi sia da riapplicare sopra il make up che in generale. Tende forse a trascinare un pochettino. Rischiate che lasci qualche pezzetto. Un po' meno. Abib. Il sun stick. Questo l'avevo preso in omaggio su Ye Style tempo fa. Non male anche questo. Un pochettino unto sul lungo termine. Io lo utilizzo per esempio la mattina. Se vado a correre. O comunque se ho bisogno di qualcosa di super veloce. Quando non mi sono neanche ancora lavata la faccia dalla mattina. Dalla notte. Passo questo stick. Che ha anche una bella forma. Per seguire tutti i lineamenti del viso. Prevedendo poi di tornare a casa e lavarmi la faccia. Non credo di averlo mai utilizzato come protezione solare giorno. Poi c'è ancora questo qua. Che è di Thank You Farmer. Che ho conosciuto al Cosmoprof. Ed è un Silky Calming Sun Stick. Sempre protezione 50. Anche questo qua identico a questi due. Per finire con gli stick. Questo qua è bianco. Io ho sbagliato a comprarlo. C'è anche la versione trasparente. E vi assicuro che la versione trasparente è fenomenale. Questo qua è bianchetto così. E rimane bianchetto. Rimane tanto bianchetto. È proprio bianchetto. Cosa ci faccio? Non lo so. Lo tengo lo stesso? Sì. Lo uso lo stesso? Non lo so. Probabilmente se dovessi essere in spiaggia sotto il sole. Forse lo metterei sul melasma. Proprio a calcificazione ce lo lascio così. Perché poi in realtà se lo spalmate con le mani. Lui è tranquillissimo. Vi lascia una base fantastica sulla pelle. Perché è anche leggermente mattificante. Per cui come crema solare da spalmare con le mani. Va stra bene. Se lo volete in stick per la riapplicazione. Ovviamente è sconsigliatissimo avere questa consistenza. Siamo quasi giunti al termine. Freshly Cosmetics. Questa qua è rosa. Fisica. Molto fisica. Corposetta. Non mi dispiace ma ne preferisco altre. Anche questa ottima per uniformare leggermente. Per la color correction. Non adatta su una pelle grassa. Perché è di quelle che dovete spingere un pochettino per utilizzare. Queste due. Allora questa. Benino. Va bene. Io qua non so. Face theory. Che cosa cavolo gli sia venuto in mente. Allora. Io ho utilizzato la MLC SPF 25. Non sono mai poi passata alla 30. Ma mi piace un sacco. Perché ha una consistenza in mousse paurosa. E anche quella lì assolutamente non fa peeling. Niente di strano. Io adesso apro questa. Che cola olio. Anche se è chiusa. Mi fa quasi schifo. Mi fa proprio schifo. E' un tag. E' tutta unta. Ora. Guardate. Guardate l'olio. Cola prima. Ma perché? Cola prima l'olio della crema. Allora. Questo è olio. Questa è crema. Finalmente uscita. Ma vi dico. Non la spalmo. Perché ha talmente tanto olio dentro. Che diventa idrorepellente. Non riuscite a toglierla. Nemmeno con l'acqua. Dovete proprio lavare con acqua e sapone. Accuratamente. Non vi dico metterla in faccia. Io l'ho utilizzata qualche volta. uscendo di fretta. Senza truccarmi. Ma unti. Neanche se avete la pelle che desqua. Ma la consiglio. Abbiamo le ultime due. Questa qua è sempre di Thank You Farmer. Ed è una protezione. Trenta. Scimmerina. Carinissima. Questa l'ho presa su Ye Style. Leggermente rosa. Vi lascia. Una tonalità un po' illuminata. Sul viso. Mettiamola così. Vedete che è. Leggermente perlata. Ma senza glitter. Senza niente. Proprio solo se volete essere. Luminosi e polposetti. E poi. Ultima ma non per importanza. Gli adesivi l'ho messi io. In realtà è tutta azzurra. Questo cushion. Gigantesco. Perché 25 grammi di prodotto. Invece di. 7 barra 11. Di quelli standard. Di Scenic. SPF 50. Questo è il mio mostro. Per la riapplicazione. Protezione in cushion. Aprite. All'interno c'è. Sia la protezione solare. Che il pad. Voilà. Ed è fenomenale. Da applicare. Sopra il trucco. Pucciate. Ve la faccio vedere. Da qua. Uniforma. Non rimane bianca. Si assorbe completamente. Non unge. Non sposta il trucco. Cioè. Non c'è. È praticamente inesistente. Ma è una protezione solare. Molto alta. Questa è quella che ufficialmente. Mi porto dietro. Sempre. Quando sono truccata. E ho bisogno di riapplicare la protezione. Perché se non lo sono. Ovviamente vado di stick. Che sono più pratici. E meno costosi. Sicuramente. Però questa. Questa qua è la svolta. Bene. Il video è finito. Finalmente. Spero che vi sia piaciuto. E soprattutto. Che vi possa tornare utile. Vorrei sapere da voi. Che tipologia di prodotto. Utilizzate come protezione solare. Io ogni tanto consiglio anche. FaceDin. Consiglio anche. Antelios Fluid. Di La Roche Posay. Ce ne sono. Svariati altri. Che possono capitare. Sul mio. E sul vostro cammino. Di molto. 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 Buoni. Naturalmente. Questi sono. Quelli che ho. I miei preferiti. E quelli che mi hanno fatto. Un po' schifo. Durante gli anni. Di base. La cosa che dico sempre. Non importa quale. Non importa come. Basta che la utilizzate. Tutti i giorni. Anche in inverno. Perché proteggersi. Dai raggi solari. È fondamentale. Non dimenticate. Di lasciarmi un bel like. Mi raccomando. Iscrivervi al canale. E attivare la campanellina. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video.